in live vediamo in teoria signori siamo in live vado a controllare no aspetta mannaggia al cazzo aspettate almeno fatemi vedere se siamo partiti su youtube e su twitch no? facciamo uno spacchettamento entrambe? si entrambe è davvero uno sbarone ma li grabber ma perchè sei così brutta? facciamo uno spacchettamento in live ma perchè sei una così brutta mannaggia al cazzo questo che pezzo c'è comunque c'è comunque voglio dire ce ne vuole per essere così pezzi di merda come amici pacchettamento cartesisa vai mannaggia quel po' calciatore i panini la vogliamo finire prima che cominciano a fleccarmi io ho trovato lo scudetto della Juventus sentite zitti test chat tu non mi dici di stare zitto capito? zitto che devo provare una chatbox che non funziona no infatti ti invitato zac? no non è che non funziona è che nessuno ti scrive sto scrivendo io imbecille sto facendo un test sulla chat e c'ho un problema con la chatbox va a fangulo e signori niente chat a schermo perché non va quindi che cazzo ti scriverei? che scrivere sei? no la chat se... eh? c'è una connessione potente 700 mega di download e devi viare mille? c'è no in realtà sono mille però tipo è bruttissimo da dire eh sai ho mille non avevi detto che mi ha dato i gigabit in dolbo un gigabit eh no eh adesso che diciamo cose e poi non le facciamo ma cosa? rock zitto unaccetta pure have a nice day ok beh se consideri che ho scaricato un 10 gigabit in due minuti il tuo nuovo hobby è disinstallare i giochi in ristalla sì onestamente sì l'altro giorno dovevo giocare con Dax a un gioco e praticamente gli ho fatto Dax dai per sport lo disinstalla e lo rinstallo fa che pezzo di merda ok signori io direi che possiamo ufficialmente partire con questa live se non ci fosse Zack ah non c'è Zack? ora è entrato l'handicappato bene ok benvenuto a tutti signori in questa nuova live di Games of Aircoops io sono DJ Beat e dopo qualcuno potrebbe per favore mettere first person e non terza persona grazie pregio in test bene siamo finalmente ritornati in questa live finalmente una live di nuovo torno a streammare sul canale di Games of Aircoops sì ogni domenica ci sarò io a fare il coglione ciao Gemini allora purtroppo per qualche stana ragione non mi va la chat sullo schermo però tutto il resto funziona quindi metto ready come è lo schermo? ne ha 5 solo che per i sport ne distrutti 3 si praticamente quando io non ho niente da fare sparo gli schermi e con la carabina in casa Zack potresti mettere pronto per cortesia non mi ci contro e tipo senti i piccini direi che cosa uè 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 io bello stuparito comunque io sono passato per salutarti e basta visto che sto in ritardissimo per la mia live quindi addio addio Gemini ciao anche a te lo vedi nemmeno gli streamers si cazano allora rocajob alcune volte io mi domando perchè quel giorno sono entrato su minecraft quel giorno di 8 anni fa penso che siano un po' più di 8 rocajob continuiamo a dire sono tipo 3 anni che continuiamo a dire che ci conosciamo da 8 anni credo che siano un po' aumentati sai forse sono troppi basta mi sento bello io sono il mio boss no you can't tirare porconi live bestie non si può tirare porconi questo è ancora caricato io sto picchiando un tipo io sto giocando con la musica di Boruto bene io sto ancora caricando anime mello siamo già in mello non so eh sento I will show you the way my friend my brother follow me dove ci droppiamo? eh quando era possibile lipovka eh si certo ancora non c'era antico my brother e non ho tolto il controller mannaccio nooo cazzo eh è vero anche io vabbè quindi abbiamo io giusto staccato secondo me e se solo mi caricasse sarebbe un piacere my brother volume e quando e quindi ci dropperemo alla fine ovvio oh no my brother volume my brother raga buongiorno ma rantic oh che bello ok ci possiamo buttare boh ormai andiamo a zark se ce la facciamo muoviremo tutti no perchè non si cacca mai nessuna quella città di merda ma mi guardo solo di merda è sempre piena oh quando si vede io non c'è mai nessuno iena 99 ci segue grazie per il grazie rantic per il follow non c'è di grazie eh i cazzo per di scegli vabbè io non c'è nessuno no ci sono due persone scherzo beh almeno c'ho un perfetto punto di vista della tua video eh sì vabbè buongiorno perfetto il tuo punto di vista ci sono tre persone roggio troppati qui con me plizzo no io vado all'angolo sono tutti gli da voi da me ce n'è solo uno da me bitteranza il resto sono tutti sorti la dp 28 è presente l'arma tedesca dove è andato lo stronzo non lo so sono così attraverso noi siamo sopra ma non lo so c'è la dp 28 ci credo stai con la musica ma l'ho tolto sai che se tu sono scattati roma giovane zaino livello 1 qui che cazzo è stai intragliatrice la dp 28 è una nuova arma è buona buon ma io so ho bisogno di soccorso arriva 2 secondi no, non si fanno in casa si stanno entrando in trai e si abitato giri su un sport arrivo eh scherzavo non lo voglio non lo voglio più il thompson, voglio la mini 14 no ma io il thompson cosa fai mi fai scemo dove sei zacco è un altro edificio guardiamo la zona guarda qua ci schiatta dove rock eh lì davanti aiuto grazie pure c'è l'ho attenzione vabbè ma che due coglioni che due coglioni ma spara gli non lo vedo rock è lì davanti bit a sinistra no no è più in fondo nelle case in fondo lì dove c'è il coso giallo da mio punto di vista rock a sinistra nord ovest bit nord ovest lì davanti rock è il mio punto di vista da mio punto di riferimento è lì davanti qui sotto la collina in queste casette qui sotto brava è di il coso giallo tipo sì ah lì eccolo l'ho visto sono tre dove stanno verso 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 lì sopra a destra bit a destra 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 lì no più sopra eccoli k uno l'ha messo uno k o ah ma sono più di tre persone puttameva eeeh non muore quel tipo ma ogni volta non c'è mai nessuno in questa cittadina non è vero io ci vengo 6 qua ti giuro quando scendo io a crona da solo non c'è mai nessuno rantic io vol sei vivo io sì sono vivissimo ma è stato meglio vita mia tira instagram ti prego lì dentro no perché forse è il caso che ci leviamo dei coglioni mi sta davvero sparando con un fucile pompa dove sta? nella casulla quella dove sta sparando hai visto eh ho finito le munizioni oh c'è un vantaggio gli altri stanno nella casetta no però è quella birra lì no dai io tipo di vista ha sparato con un fucile a pompa ho sperato di prendermi è nella casulla lì dentro sì no lo vedi dali bit dei vicini ah li ha disparati lo sta lasciando mi sta lasciando bit lo vedi mi sta lasciando veloce 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 bit non ci credo ma con il cuore è mio con l'ultimo colpo raga stai con l'ultimo colpo raga che tu devi dire stai con l'ultimo colpo ok forse c'è la possibilità che mi salvi bit se siete abbastanza veloce vuoi anche l'altro tutto ti è avuto di fianco e ti ha mancato sì rantic oh veloce oh mio dio il salvataggio della vita adesso vi sparano tutti e due modi che non vi stro ho nove colpi bit rantic sì vuoi che c'è qualcosa oh vacca buona se sei brava mamma mamma quante kill adesso questi qua se vi permetti me li lutto tutti e vaffanculo occhio che c'era altre gente che ha ciso zacca ah questo non ci vuole corri che cazzo ho lasciato corri bit non abbiamo né le munizioni no 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 non hai capito un cazzo io c'ho solamente quest'arma non c'ho niente proprio anche io c'ho l'ultimo nove colpi se vuoi ti preferire a lottare sta casa qua di fianco se proprio vuoi occhio che tre poca di quel cerchio no io ho bisogno di munizioni per il mini puttana eva ragazzi dai salta puttana maia painkiller mi ha preso io mi ha preso io dj bit che fa i big save cos'è 556 qua oh si perché lasci questa io voglio prendere il caricatore per lo sniper rifle ma il carro si allora il mini o grafico io non mi serve a niente ce li ho qui li butto via strozzatore li sto buttando tutti a terra adesso ma vietta prende tutto e poi ci dobbiamo anche muovere per il cerchio li a terra corrisse stai andando dal lato sbagliato e io speravo andate verso Giorgio che ci sono delle cose per il mio per il mio visto dove? uno tipo basso 105 la barca, provate a prendere la barca ecco questa questa non è oddio ma è il coso nuovo dai prendiamolo qua il motoscaffolo il motoscaffolo di muscolo mamma mamma raga mi son cagato in mano prima però ho salvato la vita a Rantic almeno ce l'ho fatta non è fai guarda che non è guarda che non è facile sparare con un per due a quella distanza sai cazzo mi stanno sparando veloce 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 sto arrivando sono sott'acqua ma ancora vi sto mi sta beccando tantissimo vai 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 ma ancora vi stanno sparando quindi c'è ancora un altro team oltre quelli sulla macchina è zicca cazzo che zicca di zaczo cazzo ballo è molto ballo è leggero ora muoviti che sta arrivando il cerchio il cerchio è l'ultimo minuti mi prendo il cerchio è l'ultimo minuti mi prendo è qua questa settimana mamma 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 dai bitch ti comprerai escape from Tarkov eh? ti comprerai escape from Tarkov no? ma lui già succhia su sto gioco tu gli vuoi far prendere la tua colla succhia su sto gioco disse quello morto all'inizio round ma quello lì è pura casualità Rantic ma dove vuoi andare? a Saverni? eh sì no adesso vado dal punto l'ho visto adesso cioè l'ho visto in live comunque sia su Twitch che su YouTube nessuno sta scrivendo niente lo so allora di qua non riusciamo neanche a salire secondo me ho riuscito a me ah ma io posso sparare col mini da questa cazzo di moto d'acqua ovvio solo che non prenderei nessuno ma non posso sparare ma posso sparare anche con la mitagliatrice eh vabbè si presi si presi si presi si presi ma dovrebbe apprezzare un 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 e per il gioco di raggiungere a giusto se prendi il motoscaff e tenere sulla spiaggia no no tranquillo andrà... non ci credo, tenere il caro a una mano cosa? lo tiene come se fosse un uzzico torna è presente quei giochi il terremi dovrebbe ritornare in bocca è presente quei giochi far west quelli che tengono tipo il cane mozze con una mano uguale stoccato cioè il cane con una mano quando spari ti parta la mano tutto il brazzo vediamo questa casa anche se secondo me l'hanno già allutata tutta no, è tutto chiuso nel dubbio io entro a mitragliatrice spianata vediamo, vediamo cioè se c'è qualcuno in questa casa lo lo prendi sopra a sotto c'è una k qua direi che non hai luttato direi che la k me lo prendo prendi la flashbang, affidito prendo anche una pistola hai per caso qualche tipo painkiller o no painkiller ma vedi sul balcone Rantic sul balcone di solito c'è l'uomo però Rantic che arma hai tu? vediamo a k vuoi la mitragliatrice che sta giù? no ed il balcone di solito di solito però ah ti spari in testa il dito cinese di melda ah uno zyra che non ho ancora trovato più adesso andate qui ok, oh lo shooting range sarebbe bello andarci vediamo lo shooting range io ci vado sempre un giro ce lo faccio sempre andiamo con il classico con la buggy ok non farlo schiaccia coming through sul muretto per sicurezza posso sparare con la cappa e anche col mini comunque è impossibile sparare da sti cazzo di veicoli eh sembra anche giusto oh c'è il tunnel lì ramming speed no 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 ma cosa? ti è spugnato al volo sei un fottuto di loro c'è gente ho visto qualcuno camminare l'antic qui davanti lì sotto c'era qualcuno che camminava l'ho visto sicuro non siano i droghi sicuro l'ho visto verso sinistra occhio ho visto qualcuno camminare faccia e poi c'è nessuno ho visto qualcosa camminare ti giuro cosa c'è il termine duro testo a camminare a camminare a camminare però poi vedo pure l'esploratrice che vi faccio per cosa ho detto domingo maggiore ahahah beh non sembra l'utata la zona comunque che altro che vorrei che hai visto qualcosa ma non lo ha sparato addosso effettivamente ti giuro io l'ho visto ho visto ho visto ho tutto posto Vector 556 qua 762 vai allora erano i miei demoni se trovi un mirino o letmino che mirino diserva? abbastanza grande per utilizzare il carro 4 perpi tu considera che io ho il 2 per sul mini eh uuh m416 lo vuoi? no io vorrei vorrei prendermi quello però il fatto è che utilizza gli stessi colpi del cecchino che sto usando io ah beh meglio se utilizzi solo quanti colpi hai? 160 morirei prima di utilizzarli tutti prima di utilizzarne 10 ahah anche anche che ammk più che altro questa arma mi porta sempre fortuna infatti no niente proprio 0 cioè io l'inventario ce l'ho vuoto e do uno zeno di livello 2 e hanno shoot in anger mica una farmacia vorrebbe anche giù eh quanta roba lì sopra scar c'è uno scar qui rantic ok adesso c'è il che è che te lanciavano la tua rantic mi fa tipo un pedo tutto il mondo la voglia che avevo di sparargli in faccia no già tipo io vedo i demoni tu pure lanci roba va a finire che diventa uno di quei vecchi pazzi che urlano alle robe come quel vecchio che urlava miau all'uovo miau cosa miau no non voglio sapere posso vivere sempre non lo sto bene così non sai cos'è l'interno se non hai visto quel video c'era un video su facebook che girava dove c'era un signore anziano che prendeva un nego e dirlo miau ci sarà una spiegazione logica e scientifica no si questo tizio è un coglione sarai tu tra 50 anni no rock sarai tu miau miau no un uomo che urla un uovo con un'ottima connessione miau diventa un uomo che sussurra l'altro no quella è rantic miau ma non più devo dire infatti devo dire una cosa importante devo entrare su team speak no lasciatemi no io devo entrare a concludere degli affari sul team speak e tu sei tipo ma che cazzo sta dicendo i miei affari è una questione di video di mo ok lantic va bene non ti preoccupare su discord team speak is dead era team speak all'epod su game si si c'è pure un buggy c'è una moto lì fuori quindi c'è gente lì sa qui c'è una un holographic se d'interesso qui c'è un mi un 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 anche un aperto secondo me andrà a fine che vi sparerete in faccia a un certo punto ci speriamo? sì ottima maniera per concludere la live buono, hanno lasciato la moto così a... 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 vedete se è un benzino ho forse spanata lì e l'ho lavorato smettere di baggarti dentro di me come? ho preso una tannica di benzina giusto per vedere se la moto aveva benzina this is that sexual harassment? don't... don't watch a... madonna che brutto can you... oh come on! you faggot c'è benzina aspetta adesso vi sparano tipo madonna che è brutta la moto in prima del secondo ma cosa succede? è tipo legger di spalla oh cosa? ma... no... non c'era niente! io non vedo la testa di ranti che vedo solo eh io tipo... io vedo solo i fucili e lo zaino e poi su un avranno giustato un buon dc tra pausse somebody taccio ma spai avranno giustato io mi cavo direttamente questo energy drunk se la mia carriera scopo si dietro questo punto per questo truttato si spera che per questo risultato qualche accessorio qualche benda si vede a me va più che bene se si chiude a rozzo che non avete mirini è un casino samba di taccio ma spai zaino livello 2 è l'antica no vabbè ti voglio i medicinali oh ma sul sedia sono lasciato sta roba hanno già un M16QB se ti interessa eh c'ho le munizioni più che altro c'ho l'M4 l'M416 ci sono munizioni però ci sono 90 colpi I'm going to prendere tutte le munizioni anche se non le userò quelle due crowbar lì messe accroci al flash 3 ho troppi colpi è un rito satanico per evocare al flash 3 he's never going to work è un 4x finalmente del bello madonna la luce della barriera mi sta accecando 2 metto 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 io adesso vero la zona finale in in the mist ha la bellezza di no 3 smoke mi aspettavo di più let's go let's go let's go my good friend and 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 come io non volevo morire ma invece morirai perchè 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 è però c'è un caso di rifaccio da te spatter con la faccia io sento i peggio spari oddio vedere bit senza il metto ah no ce l'ho senza sto dicendo senza il metto ma ce l'hai a lui non ho trovato altro rock vedere un nigga che corre con queste condizioni shhhh zitto c'è un carro attaccato puttana tua madre prema un giorno farei felice qualche killer sai ma nella realtà non su player unknown perchè è un killer glitch grafici che non si possono vede dai non è possibile avere un carro oh energy drink dovrete uccidere qualcuno per il millenio ormai oh in fondo 175 con calibrino vi vuoi esplorare? con il 2x la barriera eh la barriera defenestrato come l'uomo puma oh oh diritto di fronte a noi 195 190 190 distanza diritto troppo vicini distanza e dritto non hanno risposta sono nella casa nella casa rossa Rantic questo qua davanti a noi? sì perfetto di violento non sta lì questa cosa davanti a noi? sì cioè li ho visti correre verso di qua sì stanno qui davanti l'istanza di carica con tutti lì dentro? sì te la consiglio di andare per casa cosa? va bene ma hai visto? levati dal cazzo levati dal cazzo levati dal cazzo io ho visto una cosa bruttissima tipo Rantic è entrato qualcosa gli ha sparato però non c'era nulla c'era il tipo che ero con le scale però mi secondo me avevo fatto colpirmi mi fai indici come facevo a levarmi dal cazzo se tu eri lì che mi glitchavi perchè sono di nuovo in mutande? ah ok l'uomo ne ero in mutande BASTA sono no non di nuovo in mutande sono cj di gta ok denibba in the house denibba? si per essere efemery friendly? ovvio fai schifo rock se no dicevano ero di merda no dai rock joe ma perchè? oh tu le chiesti siete un po' scarsi ma perchè ti insulti da solo? posso saperlo ma dov'è la mappa nuova? dai che fallo tra l'altro io l'ho giocata una volta la preferisco a questa lo sai? dai si ma cosa? perchè? mi aspettavo di meglio niente sport per voi rantic vaffanculo ma che velocità hai tipo una fatta di tempo a premere in view che già l'hai letto vuoi sapere che velocità ho? su youtube non c'è delay no perchè su youtube non c'è delay no è twitch perchè lui c'ha i log capito quindi le bis no perchè c'ho la fibra che mi arriva in casa è diverso c'è il modem è proprio collegato con un cavetto di fibra non col doppino di rame se questo è la fibra che ti arriva in culo va bene avete caricato tutti? grazie dipende oh queste canzoni il mio brodo i will shoot you the Wii ma hai scritto? la canzone quella di knuckles si quale canzone? io non sento niente non ho la base di militari si chiamava Soznorca come? è sempre chiamata per me no Soznorca si chiamava anche per me vogliamo dropparci alla military base oh yes è questo edificio lì l'edificio blu no no stai zì andiamo a giallo ok io zack diamo la military io pure no scherzo di valgiallo ma è venuta a follow me I wish you... FORZACK ma sono serio ha visto l'onda? devi fare... bit deve mostrare che... riesce a gridere qualche duna cosi lo prenderanno gli sport non c'è nessuno se bit viene convocato agli sport mi potrei tagliare l'uccello ma scusa ma perché? ha detto rogajov bit fai di tutto per entrare negli sport bit è la tua occasione ci sono due persone sì 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 certo sto proprio venendo da te guarda non sto cambiando zona andando nelle altre case ma che palle ho avuto io no 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 era antica aiutami vieni qua dove vai? sono qua con altre quattro persone quindi sì sta zitto e lasci mi morire in pace ah senti sta zitto e me lo dici eh raga ho un'idea ho un'idea geniale arrivo con una macchina e li metto sotto tutti sparano un nec zack ne sta atterrando uno su di noi eh qui c'è una moto lo metto sotto lo metto sotto lo metto sotto se riesci a arrivare da me c'è una moto e c'è un personaggio io sono circondato come un zazzo come una puttana mi fa piacere vabbè stai levando bit in succorso senza armi perfetto tutto ciò che mi serve guardi tutto ciò che devi fa' aspiri ma mi sono schiantato nella casa ha f*** una c'azza di armi sono pure clacco Ehi mamma, un cazzo Se vieni a passi sotto la casa mia Io mi butti già la finestra e parto Aspetta, prendo Rokajov Aspetta che io do ancora l'ulta, prendi lui Muoviti Rokajov, sono qui Mi piaccio la moto in casa Scendi, stronzo Mi piaccio la moto in casa, vai da lui, porca troia Va bene, vado da lui Di venire sotto la mia finestra Non so se ce l'hai la moto Non so se c'è una finestra No, non so se ce la moto perché ci sono passato sopra Porca il cazzo Non ti rontanare Ratti, qui, stanno sparando Scendi, sbrigati Muoviti Mi spiuto Sono bloccato Sacco dov'è Ok, arriva da tenza Se ti guarda male, ti guidi peggio Intanto siamo salvi Forse Striparti la macchina e c'hai t-shot E' letto Ci possiamo fermare un attimo, non respirare Non c'è nulla, scuola, ce l'ho fatto tutto io Porca troia Sto a tutti sopra Andiamo a me Andiamo a me Sparare ora Peccato che le munizioni contate Tipo, il massimo che vuole ha P1 con 6.7 Ora è redotto Mi sento bene, stasicchiazze Fai la partita alla YAHOO Siete vedendo la macchina Oh madonna Oh E' aperto, c'è gente Com'è aperto? Non c'è nessuno Pesco, non ci sei nessuno Chi è andato in casa a me di spara Io Avevo bisogno di armi, va bene Non avevo niente Ho trovato una padella Un Vector E un ACOG Una La mia ACOG Che c'è l'escaffè No Chi c'è, Zack? Chi c'è È un piatto C'è c'è Enzo? Dove? Qua ero È di sopra Piano di sopra Ah, avete le granate? No, un Vector Ma quanti sono? Io sto fuori, incasso scendono Mi sono inventato con la smoke Ed è un pire che c'è fuori qua Stanno parlando I will show you the way, my brother Qualcuno ha 9mm extra Nope Ci va anche di un altro, eh? Perché lo do un altro e poi l'ho ucciso Si sono lanciati là su noi No, l'ho lanciata io per spaventarli Infatti l'ho ucciso per quello Ah Se avete un pompa li potrebbero lasciare Io l'ho visto uno, il boss Io non c'ho neanche le munizioni Figurati se le posso lasciare Eh, lo azio è il vostro, no? Perché avanti che so... Oh Loro saranno lì per sempre, lo sapete, sì? Lì lasciamo in 3, qualcuno ha due... Ah, è libero questo, c'era solo lui Spero, potessimo Beat si becca l'energy drink Qua c'è un 4x, chi lo vuole No, mi lascia capo, poi mi dio c'è fuori E' un c'è fuori E' Beat mi lascia capo No, mio vector Qua c'è un 4x, Rock Bis? Eh? E' un c'è fuori L'ho lasciato e fuggì la pompa No, no, quello è l'altra Quello che è addosso Perché? Perché non ho niente Ah, aspetto Ehm, dietro Molte grazie Mi prendo una scatola da due colpi Ma vuoi on the pair? Sì, grazie Qualcuno ha qualche cura? Qualcuno? Ah, sì, tieni, bevanda Grazie Basta, posso dare Qua c'è uno anche di 9mm Sarei contento Vieni, vieni, vieni Arriva Perché ci stiamo barboleggendo? Me ne sono tenuti solo 10 Perché c'ho la Glock Che è carina Qualcuno viene con me? Ah, e non c'è neanche un'armatura o uno zaino Senta Neanche io Dai, ma sei un fi di buttana, però Noi prendiamo Oddio Rock Riporta la macchia Bravo C'ho la gomma Quella, eh Mi ha sfrattato le gomme alla moto E' fi di Troy Esci fuori Dai che c'è il mio mare Perché hai L'Acock sul Vector? Perché mira meglio Perché è scemo sto ragazzo Se trovate benzina prendetelo What up What up in faccia rock Sparo in testa Voto story Mark Munizio di 9 mm Ti prendimi lì Te li prendi Ok Eh, non ho lo zaino Fuoco Lasciagli di qui E' metal 2 qui Altri Tanti 9 mm Da me c'è un metal 2 Attene sopra Oddio Quante roba Da me niente di utile Per me Mi metto all'uno Fucile a pompa Qui c'è una K Senza cosa Zack Tu non hai nessun'arma? Un mozino E' un mozino e un saizio Vieni qua allora Vieni qua Ragazzi mi c'è uno zaino Che non dovesse portare l'uomo Eh, però prenditi qua Raga, qui c'è benzina Poi vieni di qua No, mi porto l'omozino Aspetta, prendi, vieni di qua Vediamo se facciamo Se tu hai tipo Sialzatore per SMG Prendo volentieri C'è una police best al 2 Così già prendi roba E vieni qua sopra Qua sopra c'è un mini 14 Ti ho lasciato per Lascialo a Zack Sì, no, non volevo quello Volevo vedere se c'erano Posso, posso passare? Qui ti lascio Qui ti lascio 30 colpi, 5, 56 Un 2 per Eh, ma solamente a me Non state lasciando un cazzo In pratica Eh, Zack, non capo Sì, se lo streamer Ti dovresti essere Quello bravo che carriera gli altri Ma da quando? Qui ci sono altri colpi Eh? Qui ci sono colpi per la K Ma a K po' troppo Ah, le droppate La tengo Saga e... Prendi la K Dove la? Eh, dai, dai Accessori per Mitter Non ce li ha nessuno, no? No Per Vector Non vedo nessuno a K Qua, Rock Sopra Quello Quello della Saga Benne Sei uno di noi adesso Posso avere anch'io Qualche accessorio Per favore C'è un accessorio? Un accessorio di un mirino? No, uno zaino Eh... C'è un zaino ancora nulla Venita You tell me what? Tell me Sei zotti eh? Eh Io voglio il comandante Ciao ciao Altro waz Ok, qui c'è Adesso ci si è già Non posso poter utilizzare Racial slang? No Ok Era un'ottima idea Purtroppo non ha funzionato Eh... Munizioni 7.62 Qui dentro Rantic Nella casa da cui sei uscito Che non hai visto Ok Ok È un zaino Energy drink Comunque c'è il drop Di davanti Altro 7.62 Da me È ricordato È già troppo Anzi È già troppo Eh... Lì davanti Nell'altro campondo Credo di aver visto Non scendere un drop Altro meno 14 Ah, band Curati, bit Curati Che ti fa bene Oh, mi salva Aspetta Non te hai prenduto Cosa? No, ma sta prenduto Durante che quante hai Di munizioni 7.62? Eh... Tante 120 È la K Sì Me le chiami tante Guardi Sì Tieni, vedo un po' che il mio 181 E c'ho l'SKS Ma capo, c'è solo l'SKS C'è solamente io so Sto con un fucile a pompa Il Vector E c'è lo scarpino Vabbè, io gli sparo Ok Io sono ancora senza zaino E cercatelo Sono sicuro che c'è qualcuno Bitto Sì, eh È ovvio Che ci sarà Ma lo c'è Qua da me c'è uno zaino Bitto Allora, un attimo Vedo che cazzo di loot Ci sono qua in giro Vuoi anche la K Ma vorrei togliermi sto fucile di merda E mettermi un'arma un pelo più decente Ti lascio la K se vuoi Una K Un M416 Quello Tipo, ora La Bitto Sono una marca di birra stranale Sì, tipo Slav beer Birra un'alcolica Uh, zaino al 2 Dove era un zaino? Era qua dentro L'ho preso, l'ho preso, l'ho preso Zaino al 2 A chi è che gli manca? Io Dai, vieni qua da me Zaino al 2 È un M414 Un M414 Non mi fa entrare dalla finestra Eh, perché Ah, intanto ti ho fregato io Il zaino Oddio, qui ci sono due M16 Bit, ne vuoi un Bit, se vuoi ti do La K Per il Vector? No, ti do la K E punto e basta No, tienilo Vai tranquillo Bit, vieni qua Valocia Mi dica Vieni, 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 vieni Vieni, vieni, vieni Entra lì Ma a me le M16 Fanno un po' cacare Vuoi scambiare per la K? Se vuoi Se vuoi scambiarle per la K Benvenga, guarda Prego Io ce ne metto al 2 Perché volessi E mi dai reflex Il No, no, un radotto Nella casa Mi ha tirato su Pesti di Satana Ti ho visto Nella casa accanto C'è un'altra 2 Una Dasha Tu vieni bene Come faremi qua Lasciamo giù nel centro Ah Sì, ora arrivo con una Dasha Perché io No, perché sto buttando i 45 Che mi servono per il Vector Idiota me Oh, un orografico Almeno C'ho un mirino sulla K Copri fama Per Sparo la macchina Sì Vuoi rimanere qua O ci spostiamo? Ci spostiamo Ci restiamola Tanto chiude qui Non è vero mai Però Rock Fai schifo Grazie Se qualcuno Vedesse questa live Come ha fatto a sapere Che era Roca Giob L'unico Maiale Lui Non è vero Anche il titolo Giusto Non sono rotto E' zack Il signor De russi Non è vero Così Non è vero Scusi Tutto la chiedotta Come una bestia Di sapere Io non sono Un mestico Vanno Vagano Voglia Vagano Voglia stanotte Perché Però L'altro Non ho mica svegliato Oddio Perché sei venuto qua Mi hai dato a sbiamare Erranti Erranti No Eh no Mamma E' beat C'è il mio Se fosse così Se mi siamo A fare Le scucce E' rimasto Bita al muro Goodbye Motherfucker No Non è vero Non è vero Don't shoot me Penso che qualche Furlotto Gli sei dato pure a segno E' un celada Lato ci serve E' beat Dai Porca Mi sto curando Dai dai il metal 3 Bita Ti dico Dai tu hai il metal 3 Saltiamo Garanti che saltiamo sulla macchina Troppo in borsa Che si speca le gambe Arriva una macchina Muoviti bit Va in quella casa Muoviti bit E' lui che dovrebbe darti gli ordini Essendo che è lui che fa la live Lui E' il boss Sui mio boss Colui che devi temere Eeeh Poi Mi dà Se no ti manda I fanno A spammarci A che mi fermi Serisi minaccia In siciliano Se non mi dà lo stipendio Lui non è nessuno Ok che c'è una macchina Ecco ci sparano tantissimo Appunto mi fermerò in questo modo tattico In questo modo di merda Guarda che ci trovi in testa Ah si ci trovi in testa Meramente Vai streamer Prendi il loot Tutto tuo Grazie Mi barate le chiatte Vero? No Quello è Quinto di storelli Si Ricordo che quinto non ci viene Cos'è che è trafato Poi io non lo vedo Si Cos'è che non si è Certo Detto affatto Parco di No Dov'è? Caviti al cazzo Casa bianca Stai arrivando la macchina Stai arrivando la macchina Stai sentito Ma tu Tu Della macchina o con l'idea che ci sparano? Qua c'è l'altro Cazzo ragazzi Mi sparano addosso Da lontano dalla collina Da dietro Ci girano da dietro Stanno andando all'airdrop Erano in tre E non l'ho donato E non è a casa Invece che non sono messi Non ne è Cazzo No Ho visto qua Ho visto qua Ho visto in una casa bianca E' sempre si girano a tua piano Uno c'è la ghilli Esca davvero un po' di tipi Oh eccolo Con la ghilli Guardalo Ucciso? Si c'è la ghilli il tipo Mi sto andando a lottare Attento che c'è anche i tipi in casa Ah i tipi in casa Ancora ci stanno Si Sono sempre un piano Posso andare a vedere questo cazzo di droppio? Tu rischi il pericolo Ci sono quelli i tipi in casa Usciamoli Vieni Ranti Come hai detto? Usciamoli Porca troia Da dentro la casa Qualcuno mi tira su di nuovo Da dentro la casa Da quando mi sono io? No no Ranti Della casa bianca Mi tiri su Ah Hai un medic kit? Si O un first aid Qualcosa Con le bende ci metto 32 anni Energy drink No Quello ce l'ho Vieni giù Tieni Buono Ho servato Aia Vado a prendere rock E' morto E' rimasto l'ultimo I due sono atterrati E' sulle scale Occhio sopra Che palle C'è una macchina C'è una macchina Stai visto Stai lì sopra Antti Appena sbuggi Uno morto E' uno dentro la casa Sto entrando dalle scale Sopra Intento Guarda su Grazie per aver guardato su Zack Felipe non c'è Hai tre secondi Zack Zack No 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 Porca troia Non facciamo veramente Schifo De cosa sono due O lui è un mostro O siamo noi delle pippe Siamo noi delle pippe Non ci credo Che colpì in testa non muore Possiamo farne una decente Colpì in testa qua Facciamo vedere in realtà Due ne gliene fatti Due in testa Si è visto pure il sangue Tecnicamente in questo gioco Non so se l'hanno già messo Il damage In base alle parti del corpo Si te l'hanno messo L'hanno messo? Si Ti sono svegliati finalmente Non cambia un cazzo Perché Si Il colpo in testa di me Io ho fatto metà due Aspetta Non è Ok Non è Abbassato anche il danno Della VM E ha pensato Quella ventale Cazzo Quegli altri due colpi in testa Morivano Mettete ready Messo D'acqua Dagli che famo L'ultima partita Eh già Eh Sono 55 minuti già Che può passare Che può passare Passano le ore E finalmente Ti prende un tumore No aspetta Come? Come? Non era così Un po' la canzone Ah no? No no Io mi ricordavo una cosa simile a questa Ah si Ah no era un amore Che sai Che cose sono Canzoni strane che conosci Ti insegnano ciò Alla Al conservatorio Rock Io non vado al conservatorio Si che vai al conservatorio Io non vado al conservatorio Si No È un rock che va al conservatorio Il conservatorio suona i cannoli Eh certo Cannoli? Magari Se suonassi i cannoli Penso che starebbe più tranquillo Vieni qua Vieni qua Vieni qua da me Io sto ancora caricando Sono serio Che dici di me Soprattutto che conoscere di merda Certo Mi sembra giusto Perché ci deve baggare questo gioco? Zack aiutami a fare te Cosa sto vedendo? No Mi sento la mamma Ma è broda Follow me È inutile qui Mi dite quando appare l'aereo così Inizio a Beh perfetto Io sto ancora caricando Antic tu come sei? La connessione Io non carico mai Tranne adesso la sto caricando Ma scusate come cazzo è che funziona così male sto gioco? Carico sempre ciao Vai in base alla connessione Minchia Più forte è Carico sempre ciao Minchia Dovrei adesso farci Metto uno switch Per castrare la connessione Per i caricamenti di Pug Ma io ti carico subito Io sto ancora in caricamento Vabbè È il caricetto al posto dell'alimentatore A questo punto ci buttiamo con gli ask Andiamo a prison Boh vabbè la prison va bene Io non comprendisco Oddio quanta gente O la nino Cioè non è Raga io non ho caricato Esce di entrare dal gioco Proprio Alta F4 Si Aspetta Ora nino 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 Come sublizzo Non lo chiude raga Come non lo chiude nemmeno Non lo chiude neanche con alto F4 Rantic adesso ci vediamo il nonno di Chad Gestione attività TSL game Termina attività Grazie finalmente Elimina poi il system 32 No quello serve se vuoi far andare più velocemente il pc Ecco Ah scusa Bit domanda al volo E se poi rispondimi in chat non in live Sì Rispondi live Chiedi pure Chirito Suppressa la R Ne troveremo in R Ovvio È la regola Dimmi dove C'è giù di più sotto Sui spazio Ah le scale che si tagliano Che bello L'istruzione ha fatto riferimento alla memoria Le memorie potevano essere written Fare ok per terminare l'applicazione Farà nulla per eseguire il debug dell'applicazione What the fuck Mi spiace Gioca player unknown Very well in fun Urrà i giochi condivisti di non si è gibito Ora sono disponibili Mi chiedo il perché Oh sì c'è il super revolverone Allora raga in live facciamo vedere come Come si incazzano gli streamer Quando non funzionano le cose Ecco è esploso tutto Battleground Proprietà File locale Sfoglia Verifica integrità del gioco Bit fa il video incazzatura No no non faccio Non faccio il video incazzatura Riscarico il gioco mentre sono in live Semplicemente Il bello è che faccio prima A disinstallarlo E a reinstallarlo Piuttosto che a fare il controllo dei file Di player unknown Vabbè Cioè abbiamo il cazzo grosso No la connessione a fibra ottica Anche io ce l'ho Ultrafibra ottica Perché ci sbattano in faccia la gente Il bello è che loro stanno giocando in questo momento In quella che doveva essere l'ultima partita Non è l'ultima partita dai No non è l'ultima partita perché Bit stai dando un grosso contributo alla squadra Come fai? Mi impari? Ti spiego Crash E controlla le cache del gioco Ah grazie Ti rendi conto che la connessione è troppo forte Quindi Il gioco dice No vabbè Tu non puoi avere uno di ping Giocando Vaffanculo Esci da qua Di troia pure Sì infatti Ah l'altro giorno stavo Non mi ricordo a che cazzo stavo giocando C'era uno del team avversario E gli ha scritto Ok Are you serious now? E fa You With one One ping connection Why you don't go fuck yourself E io tipo Ok Mi rispetto a te Sì Ero l'unico con uno di ping Aspetta che corri Io sono sì accanto Però non so se sono io Sei tu che corri? No non so se sono io Io sono Gioco Potresti per favore non farmi fare figure di merda Quando ritorno a fare le stream Cioè Che vita di merda Ero l'unico con uno di ping Oh Oh Oddio 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 Hello my friend Do you know the way Do you know the way You are dead È morto Tutti i file sono stati convalidati Questo è perché c'è il vizio che non sta un attimo zitto Porca troia Stai zetta Zittana Raga Tutti i file di Battleground sono stati convalidati Ma se provo ad avviarlo mi dà errore Vediamo adesso Stupendo Andiamo andiamo Sta qui sopra l'antico Oh è ripartito Fubbug È qui sopra dietro l'antico Ma adesso posso unirmi alla vostra partita Sì dovrebbe dirti che puoi A meno che io non sia morto No no sei vivo sei vivo Come fate a saperlo? Perché ci vediamo in vita Sono ancora in vita mentre voi vi sparate con il dente? Sì Dove va il tifo? Ok Sto rientrando Qui vicino Nice aim L'iverso ha messo KO tu Tu ancora? Ce l'hai in italiano Oddio cosa sto vedendo? Sto vedendo il caricatore dell'M16 di Zack come se fosse il deep event Raga ho fatto continue e non sta caricando Bene la live è stata bella Direi che abbiamo imparato come si gioca in questo nuovo aggiornamento Questo nuovo aggiornamento che funziona peggio del precedente Il prossimo live sarà su Rainbow Six Lo decido io in un bitto Non puoi decidere niente tu Dove la bomba Sento rumore Sento rumore di acqua Si appaiono i punti Sermo vento Acqua Come rubare le chili Le punti No sono in cule i lupi rispetto al punto rogajow Ma vai da zà Quanta vita ti è rimasta Un lupo Ma perché non fai headshot? Senti che vai a vedere l'attività Mi stima Ho un 8x E' un Winchester 94 Com'è come fuggire? Lo scopri E' una merda vero? No E' come il caro? Uguale guarda Perché non ci credo? Perché devi provare Provare per credere Non è pure Zappero E' nuovo Buona fortuna Avventurata Adia Che Lo hanno sparato E' caduto No L'aria Andate a vedere Lo screen Sull'attività di Steam E' troppo bello Il caricatore E' visto E' presente E' presente E' presente Le armite desk Detrito è bit E' stato gentile Non ti ha tirato sotto Ma perché è stupido Zappo come va in prigione Io non sono Forse una docita Madonna Passate tipo con la bug E tipo Solo spari Sentite faccio Buttati giù Buttati giù Buttati che Buttati Porca Troia Nella vita reale Come minimo Ti saresti dovuto Spoccolare Elegante Neanche troppo Sai che Al cazzo Mi son buttato Da 15 metri E non mi sono fatto Un cazzo La ricevo il colpo di grazia Il colpo di grazia Solo quello c'ha E' il muerto Raga Avevate considerato Il fatto che mi muovo Lentamente in acqua No Perché è stata La literatura E' la tic E' il direct E' il direct Morirò Morirò qui Vero Come si chiama La muerte Morirò qui Vero Sì No dai C'hai medicina No Poi così Davanti a te Ci sono una scogliera Che non puoi passare Sì Diciamo che Stai sprecando te No Aspetta Voglio vedere Dove arrivo Almeno Alla morte Al paradiso Nel mondo Dei Shinigami Eh per ora Non mi sta togliendo Troppa vita Perci al cazzo E' la prima Rispetto al normale Toglie molto meno Rispetto a come me ricordavo No Stai sempre a quello La prima La prima è sempre così E' la seconda che inizi a prendere Cosa fa? Ah Rantique E' presente E' la recensione accuratissima Sì Non faccio pubblicità sulle live Sì Sì Dopo te lo devo far vedere Sì Dopo te non vai Io pure devo andare a letto Signori Domani Devo andare all'università Alle 8 Alle 8 Povero Tato Peschi Ok Now I need A card To show me Devo Ehi Quando è la prossima live vita E su cosa sarà? Dipende In base ai giorni Che c'è l'università Comunque domenica Sicuro Domani Su Rainbow Six La domenica sicuro Sono in live Sul canale Dei Game Slayer Porti sempre più Erano uno Vario Vario Sicuramente finirò La serie di Gears of War 1 Perché stavo streamando La remastered Ma non l'ho finita Di streamare Quindi Finirò quella E poi Vedrò che cosa fare Questa era una live Di ritorno All'estream Nessuno più vale Sai qual è un gioco Che viene sottovalutato Ma che c'è un sacco Di visualizzazioni Fortnite No X A forza di te Il gioco del cazzo Ma non è vero No Ho posto Valtato Che un gioco Definiscono Ah è bellissimo Non è male Ha davvero Se guardi Su Twitch I canali Tutti le live Di X Minimo Hanno due persone Che riservano Perché Nessuno Gio C'è Effettivamente La palla Da guerra Genera Tre i coglioni Giocarlo Minchia Ragazzi Ragazzi Rogage Dice che è una palla Deve essere Veramente Una C'è Che non si cambia nessuno C'è Deve essere Proprio appassionato Di giochisti Se non ti rompio Che succede nessuno Proprio appunto Io guardo Tutte le live Tu lo sviluppatore E basta Ragazzi ce la posso ancora fare Non c'è Medicinali No Tanto adesso a fine me Sono appena morto 3 2 1 Tanto adesso su Twitch Sarai inondato di Dragon Ball FighterZ Ovunque Tipo 2 streamer Lo stanno aspettando tutti Sì lo sto aspettando L'universo Quel cazzo di gioco Disse quello che guarda Nego Negro No nego Dai metti pronto Zack Fai l'ultimo Cosa Cosa Ci sta abbandonando Gli ho fatto Un traitors Dai Dai che facciamo l'ultima Poi devo andare a corrigarmi Anch'io Anch'io devo andare Quindi No facciamo l'ultima Fate l'ultima in due Facciamo l'ultima in due Rock Ma io non ci gioco Buono Vi auguro Una Felice Fine live Con quest'ultima partita Buona serata Se crash o bestemmio Alla prossima È stupendo come Si riuscite a installare In due minuti Playera No Non l'ho Non l'ho Riscaricato Devo dire la verità Ho semplicemente Convalidato i file di gioco Sei uno stronzo Beh buona serata Buona serata Mi hai ventito Non ho più fiducita Io pensavo che mi amassi Non lo è vero Ora vado a piangere a letto Buona serata Ciao Rantic Sei una persona Brutto e cattiva Decide quel cazzo di Dio Ok live team Non mi fa lasciare il team E non mi fa lasciare il team Ho fatto live team due volte Sono ancora in team Are you sure you want to leave your team? Ok E sono ancora in team Refresh Vai su le impostazioni E fai restart lobby Riavviano lobby Ok Ok Due In vita Fatto Due Started matchmaking Molto making Fare molto Matchmaking Eh making Però L'ebola Non la voglio la tua ebola Madonna Che cazzo Fai pub Ma tanto si sa che a Milano C'è qualcosa di peggio I milanesi? Sì Vabbè Io Adesso Adesso si vede la barra Del desktop in basso Ma che cazzo Di problemi ha Sto gioco Ah vabbè A me da solo il problema Di framerate basso Ditmi i regali Una 1080 Ma guarda Se me la regalassero a me Te ne avrei una anche a te Oh che Che carino Non va Bene Ora non si vede nemmeno lo schermo qui E sto alta a bando da un quarto d'ora Perfetto Vai così Oh ce l'ho fatta A me Ok dove? Aspetta Fai di spuntare l'aereo Spuntiamo da qui No Spuntiamo da qui Eh Andiamo Qui Andiamo Orgopol No Sei pazzo 3 2 1 Via Che bello Non siamo gli unici Di aver avuto questa idea Del cazzo Che folle Andiamo a Gap Allora Giro Ah no Stanno girando l'oro Sì stanno girando l'oro Continuiamo ad andare di lì Che forse manca c'è di diamo Come no rock Siamo arrivati Ok Sì stanno girando l'oro Quando ero solo un po' Mi chiedo A mia madre Che sarò Sì stanno girando 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 Zaino al 2 Sei così Però che Ti vorrei scopare Mi dispiace Non mi piace il cazzo Ah mi sembra che sì Qua c'è uno zaino Livello 1 Se dovesse servirti Uno shot Subito Così Andiamo a fare il culo Alla gente A distanza ravvicinata Gente che non c'è qua Per fortuna Sì infatti Ma guarda Io quasi quasi Invece del fuggire a pompa Mi prenderei L'SKS L'S12K Vabbè Uguale no? Vediamo lì Munizioni per lo shotgun Come se proprio Piovesse Cioè posso aprire le porte Con lo shotgun Per quanto è ammocio Ma non Credo di farlo Tommy gun Con Un Belper 4 Che inutile Sulla Tommy gun Perché Da questo punto Perché non la posso mettere Lo dovevo mettere Sul fucile a pompa Ma non ha senso E anche la dottor Un'arma Ok silenziatore Per il pompa Medici C'è stato tu? Ma da quanto tempo Sei in live Un'ora e un quarto Chirito Ciao unico Telespettatore E' chirito Si lo so Qua un altro Zaino al 2 Mirini al 2 Che io li prendo tutti Tanto possono sempre servire Mirini Se trovo un'arma Se trovo un'arma si Visto che per adesso C'ho lo shotgun E la Tommy gun Che sono Mi sono inutili Posso mettere C'ho sto pieno di cose Fucile a pompa silenziato Cioè guarda Eh si Fucile a pompa silenziato No Senti Eh il silenzi 3xR Pezzo di me No Dai che c'ho lo scato No Devo silenziarmi da balestra Vabbè Cosa che non si può fare Perché Ehi Voglio vedere che succede Se sparo con questo fucile A una porta Sì La fa decisamente a brandelli Sai com'è Posso avere Un fucile d'assalto decente Che non sia l'atomica Puttana Eva Ho lasciato l'M16 Soprattutto senza colpo Te li sei presi tutti Vero? Sì Che persona di merda Ah beh Tralasciamo il fatto Che a me l'M16 Su sto gioco Fa cacare Perché non lo sai usare No Non mi piace Preferisco l'M4 O la K Proprio proprio A me la K Fa più caro Un vincolo del Beh quello è anche vero Andiamo al punto Sì Se magari mi aspetti Vabbè Intanto vado per strada Ti serve un per due? No ce l'ho Un mirino laser? Punta tole laser? Punta tole laser? Non esiste Si si chiama puntatore laser qua Ma è red dot fondamentalmente No ce l'ho detto E poi perché è puntatore laser? Infatti si E' punto rosso in teoria Red dot E non red dot Ho sentito un sacco di gente dire Red dot Red dot Invece di red dot Red dot Red dot Guarda l'alieno ha morto a tre posti Perfetto Se ce ne sono qua C'è poi sempre Ma guarda Visto che siamo dentro il cerchio Ci nuttiamo le case Uccidiamo un po' di gente Ci camperiamo No? Sì sì Andiamo a po' cinchi Dai Sì sì Però la morte Tutto il contrario Di quello che tu volevi fare Ma io voglio andare a po' cinchi Non c'è da solo Io non ti c'è compagno Visto Ciao rock Te lo metti Munizioni AK No mi taglio Allora finalmente una police vest Nice Visto Sei scemo Stava aprendo la porta Sei passato tu davanti Let loops per il car Che non ho Flash rider per il car Che non ho Povero rock Maggio per il cecchino Che non ho Povero rock Vorrebbe un cecchino Ma non ce l'ha Esatto Ma ogni volta è così Trovo le cose Ma qui non c'è un cazzo Trovo delle Le accessori per un'arma Non la trovo mai l'arma Oppure che ne so Trovo l'arma Non trovo mai il suppressore per AR Trovo il suppressore per AR Non trovo mai l'arma Così difficile Trovo l'arma Un M6 Un M4 Un M416 Zaino al 2 C'è già Mi serve una police Basta al 2 Ah anche a me Se trovi Sfugili d'assalto Chiami eh Oh Oh Poi il stress al 2 Oh buono Buono Oh Tieni ti do quella mia al 2 Ho trovato quella al 3 Dove? Eh Qua In questa casa Un momento Che guardo qui Ti dico se c'è niente E vengo a prendermi la police Sfugili d'assalto Delle bende Prese Un niente Niente Però ci sono dei colpi 7.62 Se ti possono servire E ti ho lasciato anche Ti ho lasciato anche Un energy drink Poi arrivi Sei tu? Sì sì Dove sta la police Vestal 2 In Cusena Boh Non le trovi? Sì no Stavo pensando Al fatto delle armi Non c'è un cazzo Eh Così L'energy drink Sta qua sotto Preso Preso Andiamo Poi potremmo andare Qui dietro Se non c'è niente Pare manovra Questa roba Un po' un casino Vai piano Mi raccomando Ho sentito Vai forte Vai piano Ti sparo in faccia Vai piano Non c'è niente Se non preoccupa Niente proprio Di solito nei anger si trova a Roma Secondo me se lo son già ripulito Stanger No 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 l'hanno vittato Prende il 2 pecca Ah che odio Madonna che buco Niente vero? Nulla Ma perché? Andiamo nelle case a qualcuno Vediamo questo un attimo Magari c'è qualcosa Band Ha tirato una laggata Oddio si grazie Ha tirato una laggata Di quelle brutte comunque Perché non posso entrare da questa finestra? Perché è sbarato Allora Via Vieni a papà Venite a papà Allora Per 4 qui sopra Silenziatore sulla capa Caricatore esteso Non lo posso mettere Rock Ti servono mirini per due O mirini laser? No Ok Impugnatura ad angolo? No Impugnatura verticale? Eh già Mirino laser neanche immagino No Perfetto Mirino laser Nintendo red dot Rock Capisci C'ho la capa silenziata Sono contento Sentiamo Siamo fuori dal Vabbè abbiamo 3 minuti L'ultimo attimo fa Occhè sta casatta Il primo Tu non hai luttato Andiamo Pulito È raffinato 45 9 mm 45 Calibro 12 Balestra Ce l'ho un po' di cose di cura Io Tu come stai messo? The first aid 15 band Un painkiller 6 energy drink 2 medikit 20 band Un antidolorifico 4 bevande energetiche Ora Mi serve un cazzo di cecchino Io sarei contento Se si riuscissi a farmi un M Io sarei contento Con un M416 Full accessoriato Un 4x Buono Pistola Mi serve un cecchino E non metto il 2 E sono apposto A me accessori per Per la R Per la K Prego Caricatore rapido Buono Su No Non su questo Ma su questo Sulla K Con la K C'è sparola Madonna Scesa in terra Di colpi Buono C'erano accessori Per caso Ti ricordi Solo per SMG Che dupalle E di che te colpi 162 Vai Passami a prendere Ti aspetto Sulla strada C'ho 4x Tutte robe Per il cecchino Non trovo il cecchino E' un bordello di roba Minchia Se trovo il car Adesso Io mi sa che bestemmi Donna Dai C'è un pozzo di roba No Mi dai tu la roba Pezzo di me Perché Roca Jove Un filetidino Ma manco a pagare Oh No No Sembra che era aperto Questo Cazzo Cazzo Un altro AK Col fronte sono solo granate Io ho tipo Un altro 4x Io sono pieno di munizioni Ma 4x ce l'ho già sulla K Basta Eh l'altro L'altro fuggì da pompa Rock Datemi un cecchino Datemi un cecchino Da na 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 Voglia di sparare Na 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 C'ho 200 colpi Per i 556 Di conto non ho sparato Io ce l'ho 160 Per il Per la K E 60 per il pompa Oh Mi hai scliccato tu Sì Ma tutto con la tastiera Che mi sembrava molto molto vicino quel colpo Anche nel Natal 2 Non mi dispiacerebbe A me una Police Vest Al 3 Non dispiacerebbe Which way Ho messo il ping Prima di andare là Andiamo a succedere Dove è la moto Sì Eeeh E' noiosa partita Sì Non succede un cazzo Troppo tranquilla Si è stretto su Pocinki Trovate la moto Eeeh Dove è Pocinki? Oddio mio Oddio mio Per andare in quelle cassette là Vediamo Sì magari senza Dovrebbe forse passare dalla zona rossa Si rischia Aspettare una fiata no eh No si rischia Io rischierò col fucile a pompa Nella zona più pericolosa che esista Nella zona rossa Cosa? Non ho preso nulla Dai Oh madonna Quella che in fretta Non è più brutta Proca jove Vaffa Porca puttana Se la bughi vieni qua Vieni Ognuno pensi a se Ah dio Ok finito Non ci credo Non so come abbiamo fatto a sopravvivere Ma sta cosa non gira Ok qua Sembra non essere luttato Sembra Sto chiuso Sto entrando un attimo nell'altra casa Vedo se c'è niente Se non c'è vado a prendermi quello Oh si M416 Godo Adesso serve solo un cecchino Eh effettivamente La resta no Questo cecchino no Un'arma di me Silenziatore mondo Su quale lo metto M4 Tanto c'ho il per 4 su entrambe C'ho il per 4 su entrambe Quindi Ti conviene lasciarlo solo su uno Perché se ti arriva uno ravvicinato Ti puoi abbastanza 10 Vabbè a sto punto mi tengo la k Che c'ha il Lasci la k Col 4x in singolo E l'M4 con il red dot Non ce l'ho il red dot Vabbè quello che hai Red dot ce l'ho qui Dici che è meglio così? Sì La k In singolo col 4x L'M16 con il red dot Yes In auto Il drop lì davanti Qua arriveranno a spari da uno Eh noi spariamo Cheekpad per SR Datemi un SR DP28 ma lo fico su per il culo Ah quindi se i dedico a queste pratiche Ovvio A inficcarti le cose su per il culo Intendo rock Sì sì Soprattutto su un DP-ventor Te le sei ridate già tutte? Sì caro Io mi stavo sistemando le coso Mi stavo sistemando Ti vuoi barricare in casa? Eh sì Prima ci luciamo a sta casa E poi ci luciamo a qui dentro Perché Di davanti c'è il drop Quindi sicuro c'è un colp Secondo Guarda quanti 4x Non c'è nemmeno schicchino Anche non li trovavi 4x Compensator SR pure Eh un compensator? Prendilo che mi serve Ah no SR no L'avevo capito per AR Per AR mi servono caricatori Ehm Ehm Un caricatore E un compensatore E un silenziatore Dipende Cosa trovi? Sciotti Una moca Una moca indistruttibile Secondo me sta pieno di accessori a AR Qua dentro E tu non mi stai dicendo niente Ci stanno i vertical fork Non ci vai già Eh sì Non mi serve a niente Che perché io uso Quell'angolare normalmente Boh Andiamo per i cerchi Più di questo Non ci sono qua Eh mi sa Mi sa De no In mezzo a nulla Con un compa E uno scarro del cazzo Io in mezzo al nulla Con una cappa E un M416 Quasi full equip Adesso un cazzo di cecchino Mi manca la puttana Tra l'altro siamo in 23 Eh sì Siamo tanti rock Boh che merda Eh quelle case lì Non mi ispirano troppo eh Però c'è qualcuno 100% Vuoi andare a fare un raid? Beh Io direi di aspettare Proprio perché È campo aperto Quindi basta Che si spara uno Arrivano tutti gli altri Intorno Parliamo di Metal Gear E sono Sì Silenziatore Mi conviene Terarmelo sulla cappa Che l'uso per la distanza O sull'M16 Boh Se vuoi puoi switcharlo Dipende dalla situazione Se sei veloce Se no Tienilo solo sulla cappa Mh Essentivamente L'uso per distanza Non è avanti Sento E rock Io le porte Le vedo chiuse però Dai grazie Cazzo Sono Chiudo Sono Un po' Chiudi dentro Un cazzo Se il cerchio si chiude là Facciamo un piccolo raid Lì Vediamo di camper Sì ma tanto Secondo me Si chiude qui No Se non metti Oh Pari da sinistra A destra Che è campo apertissimo Non c'è nulla No infatti Davanti C'abbiamo ste case Sinistra Non vedo Che vuoi fare rock Il cerchio è oltre le case Quindi Boh Facciamo un piccolo raid E poi In caso le sorpassiamo Vediamo un po' Se con le case Si sparano Potrebbe anche essere Che non le hanno lootate Perché hanno pensato Eh Saranno già state lootate Cioè qui davanti Oltre ste cose C'è gente che si spara Sì infatti Entriamo in coppia Magari Libero Mi sa che sono Non sono lootate Sai Eh no Andiamo in balascio In quella grande Allora Con la qui di davanti Eh però c'è un uaz Stai attento Sì c'è gente che si palla C'è gente che palla Che ritardati Non lo lasciate Stanno di sopra Aspetta che gli tiro Una granata Mi hanno accato uno Li ho uccisi Candy C'è ancora un altro Che palla Non so se Vai 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 Salì salì Proccia Ok sono tutti morti Ok Come se Ma il microfono Com'è che si chiude In teoria Deve iniziato Attivarlo dall'imperfuzione Ah Io non lo sapevo Ho metto a tre Dai un cazzicecchino Non c'eva nessuno Mi sa di noro Mi sa di noro Kajov Ce ne possiamo andare Veloci Aspetta M416 AK Prendo un po' di munizioni Fammi prendere Perché non posso prendere Questo 4 per lo posso buttare 100 colpi Lo posso buttare Spazio insufficiente Che zaino c'ho Zaino al 2 L'anima Ah vabbè ma sono pienissimo Cazzo è vero Madonna che cool Che sono stati dei ritardati Hanno lasciato il microfono accesso E quindi Ovviamente allora Oh lì davanti c'è qualcuno Noccato Oh mi spara Vieni qua a sinistra Non fatti prendere Mettigli Cazzo Mi ha noccato Rock occhio Eh mi dispiace Eh ci sto provando Rock Rock Ok Mi ha uccisi altri due Vai 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 Tirami su C'erano due lì Allo hotspot Lì ho uccisi Velocemente Che sto messo malissimo Ho 30 secondi Si curati subito Veloce Non pensare a nient'altro Mad kit Subito due energy drink No? Si si vai vai Il fatto è che Gli stavo sparando Con l'arma A ripetizione Altrimenti L'avrei ucciso Vai Entriamo in zona Vieni qua Qua sotto Qua sotto Siamo al sicuro Meno male che ho preso Sto M16 Singolo Siamo in cinque Siamo noi due contro Altrimenti Ok Vieni qua sotto Dite li aggiviamo Sono due team diversi Stanno sparando Si infatti Quindi sarà uno da solo Dove stanno? Verso a destra Ok Stanno sparando Ne vedo uno oltre la collina Dove? Eh lì a nord Bit Bit dietro l'albero a nord Dietro l'albero a nord? Si ce ne sono una Dietro con l'albero Eh rock Però qua Se ci arrivano da dietro Tu guarda a destra Io guardo quello lì Nell'albero Quello lì è da solo Quello nell'albero Noi siamo in due Stanno noi due Contra altre due persone Perediti indifferenti Noi siamo al centro Del ciclone Noi abbiamo posizioni migliore Perché siamo al centro del cerchio Lui deve correre Sì rock Ma io ho paura di scazzare Ma tu guarda attorno a me Guarda attorno a noi Eh rock si ma quello mi spara a me Non c'è una copertura No ovviamente C'è il tipo a destra Che ci lancia le granate Ho fatto una cazzata Guarda come ci tira le granate Quello sono stato io Me la sono tirata da solo Ok morto è rimasto all'ultimo bit Occhio Occhio Aspetta mi sparano un kit medico subito Deve venire lui da noi Coprimi Mi sto sparando tutto quello che ho per curarmi Eh proprio in un po' di qui Ah Sei tu che hai sparato No Allora è dietro di te Ah eccolo Sì Vediamo la death cam Vediamo la death cam Non puoi Sì Puoi Allora sei morto No Poi a me non me lo fa vedere 780 credit Così è gratissimo Ah Quando mi hanno messo giù Eh sì Che tra l'altro non mi ha colpito No No Mi ha messo Mi ha messo giù sparando A terra Quanti ne ho uccisi tu? Ne ho uccisi Io ne ho uccisi Dove si vede? Eh quando eri in partita Credo O due o tre Ah buono dai Mi ha deciso di otto Beh comunque signori Ringrazio tutti quelli che ci abbiano seguito Fino a questo momento Per essere stati con noi Ringrazio Rocco e gli altri due ragazzi Che ormai sono scomparsi Io vi ricordo Che potete seguirci Tutti i soldi network Che trovate qui Se volete rivedere questa live La troverete probabilmente Sul canale di youtube Di games of air corps Io sono finalmente tornato attivo Su questa community E se dio vuole Sarò attivo anche sul mio canale youtube Ogni tanto Vi ringrazio per averci seguito Ringrazio Rocco L'ultima partita è stata veramente Veramente una cosa Wow Fantastica Ovviamente con me E sta No Tra l'altro buco di culo alla fine A trovarvi delle armi di gente Mamma mamma Consiglio Per chi stesse vedendo questa live Chiudete il microfono Sul player unknown E non Non mettenetelo aperto Per dire You know the way Only team Esatto Per il resto Io ringrazio chiunque Abbi seguito questa live Chiunque sia passato Vi invito a passare Dai vari social network qui sotto Dai canali di tutti gli streamer Non lo so Rocco Puoi spammare il tuo instagram Eh No Ci vediamo alla prossima live Che sarà non so quando Onestamente Perché ancora non abbiamo rifatto lo schedule Ma ci sarà Ci vediamo con noi domenica Sicuramente Con me Su questo canale Ciao a tutti Ciao Ciao a tutti Ciao a tutti